I solisti di Perugia hanno suonato ieri pomeriggio a Spoleto, nel Teatro Nuovo, in occasione dell'iniziativa In Memoriam Giancarlo Menotti. Il programma prevedeva musiche di Samuel Barber, Benjamin Britten, Giacomo Cuccini e Giuseppe Verdi. La scelta di questi compositori non è certo casuale. I solisti hanno voluto rendere omaggio a Giancarlo Menotti nel modo in cui lui aveva ideato l'impostazione originaria del Festival dei Due Mondi, l'Italia e gli Stati Uniti d'America. In sostanza le due anime del grande maestro italiano che è cresciuto come artista e compositore negli States, dove ha avuto una lunga relazione professionale con Samuel Barber. E a proposito degli Stati Uniti ci sono delle novità, ascoltiamole. Abbiamo scelto i solisti di Perugia, che saranno anche i nostri portabandiera insieme alla Fondazione Festival per la promozione del Festival a New York che avverrà il 19, 20 e 21 marzo a New York. E quindi abbiamo fatto una prova generale con questi grandissimi professionisti che ringrazio. Una doppia ispirazione quindi da queste e per queste due nazioni personificati nella figura di Giancarlo Menotti, che sono i due mondi che fornirono al compositore italiano l'ispirazione per realizzare il Festival. La prima parte del concerto al Teatro Nuovo è stata dedicata agli Stati Uniti, mentre la seconda all'Italia. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Spoleto, Perugia.